Grazie Buongiorno 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 E Allora E E La stelfi Ancora per qualche mese vegetariana Dopo che passa Dopo che passa Il primo Il primo Il primo Il primo Ecco Mi pareva strano Dai, dai, Nish Animo Il primo Il primo Il primo Il primo Allora Ragazzi Prova 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 Par Al In Il primo Il primo antique Pagni Di il direttivo di GSM Time è la Giulia che è lei allora lei mi sono scritto anche questa frase qua mi perdonerai allora lei è la vera forza brutta di Bike Off Road eh sì per la quale si dedica a anima e corpo insieme con Luca Luca lui anche si alzi allora esperto a 360 gradi del mondo della mountain bike degli eventi che ci girano intorno rivoluzionarie e sempre attinenti le sue valutazioni e proposte è il più giovane del direttivo è quello che ha la forza e l'energia grazie Giacomo da oggi anche esperto poi abbiamo Stefano Scatoline è un istancabile e metodico compagno di avventura con lui sono cambiati i processi di gestione del GS e ridefinito con sapienza e preziosi consigli il regolamento che ne è la colonna portante grazie Stefano grazie Stefano promotore delle padelate venete e grande trascinatore e stimolatore grazie Lanfri non è possibile dopo oltre dieci anni di concreta, fedele, preziosa presenza con lui i progetti vanno avanti anche quando sembrano insormontabili lui ci fa superare tutto ci ha dato una grande mano ci mancherai tanto Ale grazie grazie come ti senti Luca? un po' un calo di zuccheri una bottiglia di prosecco ti mangio un po' di bico e Ale? sì 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 prima grassificata benvenuti cocinato grazie 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 Stefano, scatoli eeeeeee bello che sei iscritto da poco sono iscritto da poco sono iscritto da poco Ecco, l'ommaggio floreale per le signore e la ricca lotteria con i premi offerti da amici, dai nostri sponsor. 638! Chi è il pollo che è il 638? Eccola Andrea! 638! E' il giuristoso! 638! Panko sorpresa! Tutto dentro! La metà! Confezione Favaro-Gioielli! Il sacchetto è Favaro-Gioielli! Eccola qua! 917! 917! 917, 1! Silvia! Risotto per tutti! Risotto per tutti! Risotto! Risotto! 917! E lui sta un tappetino per esercizi di giopo! Un giopo! Un giopo! Un minocco! Scalbisti! 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 Il nostro amico, socio del Jazz Affiliate Time da tantissimo tempo e nonché maestro di mountain bike, ha messo a disposizione del Jazz Affiliate Time per questa lotteria un corso di guida sicura in mountain bike al numero 500! Alla Erika che ne ha proprio bisogno! Ezio, l'ha vinto la Erika! Fantastico! E' molto carino questo qui! Abbiamo questo, poi abbiamo altri quattro numeri e poi abbiamo finito... Tutti i possessori di questo meraviglioso quadro dal 2008... Come se ho portato a casa vuoi? Ecco la vista! Quattro numeri e guadaglia! Allora, con questo è il maggior spazio! Converete i biletti solo per i figli! Non sarà mai vostro per sempre! Sarà vostro solo per un anno e avete l'obbligo di appenderlo in salotto per un anno intero! e dopo di restituirlo al prossimo pranzo sociale... Quattro cento trentuno! Ehi! 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 Imago eh! Ehi! E io non Ehi! 24 25 grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti